Mentre le previsioni meteo prevedono un miglioramento del tempo nelle prossime ore, con il ritorno del sole, i sindaci della provincia sono impegnati con la conta dei danni della breve ma intensa ondata di maltempo che lunedì e ieri ha investito il bellunese. Oltre a Lampezzano, Alcador e Alfeltrino, la pioggia ha creato qualche disagio anche in Agordino, causando degli smottamenti. È il caso di Roccapietro e dove, a causa del maltempo, ha ceduto una parte della strada che da Santa Maria sale a Caracoi e per la cui sistemazione sono già stati attivati gli uffici della provincia che interverranno con la procedura di somma urgenza. Anche questa volta l'ultima perturbazione ci ha portato uno smottamento sulla strada, questa volta sulla strada da Santa Maria che sale verso Caracoi, prima Goin e poi Cimai. Ha interessato parte della carreggiata, abbiamo subito informato la provincia che è competente in questo caso, attiveranno una somma urgenza e con questo si conta in breve tempo di riuscire a intervenire.